Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui su Farming Simulator 17 Nella nostra bella mappa di terra italica, ovviamente in compagnia solita del nostro amico Stan84, ciao ste, bentornato Ciao Simulator e ciao a tutti ragazzi, grazie come sempre dell'invito E figurati, lo sai che mi fa sempre piacere Allora, abbiamo da fare parecchie cose oggi raga Parecchie cose perché dobbiamo comprare i maiali perché molti di voi Ah qua hanno iniziato già a fare concime, bene Molti di voi, io avevo chiesto nei commenti un piccolo sondaggio, se comprare le pecore o i maiali La maggior parte di voi mi hanno detto maiali, quindi oggi compriamo i maiali Ma prima di iniziare vi ricordo un paio di robine La prima è che oggi, domenica, non so che giorno sia precisamente alle ore 18 esce lo speciale 1000 iscritti Quindi restate sintonizzati per le ore 18 che vedrete lo speciale In più ovviamente, vi ricordo che in descrizione potete trovare i miei link utili Compreso il link delle donazioni se volete fare un piccolo supporto al canale Compreso il link per comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati E ovviamente il link diretto per il canale di ste, mi raccomando Datevi di iscrivere Bene Grazie Vai pure a lavorare Certo Allora, qua stavamo iniziando a seminare, cioè stavamo, avevamo iniziato a seminare Stiamo anche quasi già finendo Mi pare che anche tu stavi seminando ste Sì, 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 sto seminando Ecco Qualtre il, cos'è, il 42 Perfetto Volevo solamente controllare giusto un attimino l'andamento dei campi eccetera eccetera Allora, qua bisognerà poi mandare ancora un po' avanti per trebbiare Allora, appena finiamo di seminare, facciamo una cosa Mandiamo avanti fino a che i campi autunnali non sono pronti per la raccolta Così nel mentre che ci dedichiamo alla raccolta poi compriamo anche i maiali e tutto il resto Così almeno abbiamo un po' di rubine da fare Cose da vendere per il momento, a parte la lana ancora 14.000 euro, non ce ne abbiamo Quindi per il momento siamo a posto Do giusto l'acqua alle mucche, così sono tranquille Allora, raga, acqua data, così le mucche sono a posto Volevo anche controllare un attimino quanto veniva l'insilato Perché ce l'abbiamo ancora dentro al bunker Qual è il simbolo dell'insilato? La balla, aspetta che, la balla Quella tonda? È una balla, sì Però vale bene, è leggermente in discesa al fienile 457 euro Oppure al biogas 419 È in discesa però vale ancora molto bene Quindi io mi farei un bel carico pieno 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 Allora iniziamo subito da ste robe qua Va perché sennò ho paura che scende troppo poi Un bel carico pieno E ci facciamo una bella vendita E andiamo ad aff... Cosa facciamo? Li affittiamo o li compriamo direttamente i nastri? Va li affitterei per oggi va? Sì, non credo che abbiamo così da... Eh esatto Non è che ci serve poi così tanto Allora arrivati in farm Posiamo sta seminatrice Poi prendiamo a questo punto i nastri a noleggio Perché tanto non ce ne frega niente per il momento di averli comprati Quindi noleggiamo questo, noleggiamo questo Che comunque costano anche un pochettino Li andiamo subito subito a prendere Così almeno li iniziamo a mettere al bunker E ci vendiamo tutto, veramente tutto L'unica pack è che se ben ti ricordi poi scende il prezzo, giusto? Dopo la prima vendita Doveresti riuscire a fare un'unica vendita Dovremmo riuscire a fare un'unica vendita E quindi bisogna noleggiare un cassone per forza Dobbiamo noleggiare un concassone raga Perché non è come il 19 purtroppo Che fa più fatica a scendere il prezzo una volta venduto Qui appena si vende è la fine Cioè il prezzo scende subito di botto 101.000 litri E allora sì, per forza due visini dobbiamo noleggiare Che sono due da 56.000 litri E siamo sicuri almeno Tanto costano 4.000 euro noleggiati Quindi dai Alla fine dovremmo Allora io ho finito di seminare il 42 Ok Il 41 è da seminare anche? Mi pare di no Mi pare che è già seminato No il 41 l'avevamo già fatto Ok Ho visto che c'è anche nel frattempo è uscito un prezzo Soia Cioè la soia al consorzio dell'Emilia A 1784 Abbiamo 6.000 litri da vendere C'è voglia di farti un cassone Di semi di soia E varlo a vendere al prezzo massimo della soia Niente allora prima di mandare avanti il tempo Dobbiamo per forza vendere tutto il Come si chiama? L'insilato L'insilato Sì perché se no poi il prezzo scende troppo Già a 457 insomma E' un po' bassino Anzi sapete cosa facciamo? Con la scusa Fermo il tempo Così è bloccato sia il prezzo della soia Che il prezzo dell'insilato non scende Anche perché è già sceso a 455 Quindi ho fermato per un secondino il tempo Fino a che non finiamo di vendere l'insilato Poi Faccio scorrere di nuovo il tempo Ah però questo sarebbe un trucchetto Se vogliamo vendere in più volte credo O scende comunque il prezzo Non lo so Guarda questa roba qua proprio Bella domanda Adesso guarda vendo Adesso vendo E così vediamo Bravo esatto Perché se è almeno non ci dobbiamo noleggiare i due I due cassoni Risparmiamo 8000 euro comunque Bene 11000 euro Da 6000 litri di soia E' sceso il prezzo? No Non è sceso Immaginavo perché c'è il tempo a zero Quindi in teoria il tempo Non influenza più i prezzi I prezzi dovrebbero essere proprio bloccati del tutto in teoria Però una prova la farei sinceramente Perché mi scoccia ti giuro tantissimo andare a comprare Andare a noleggiare 8000 euro di cassoni Perfetto E stiamo iniziando a scaricare l'insilato raga Facciamo sta prova Ovviamente non posso mandare avanti il tempo veloce Fino a che non finiamo di scaricare Sta roba qua Quindi per il momento sono fermi i campi Dobbiamo attendere prima di mandare avanti il tempo per poter raccogliere i campi Però nel frattempo abbiamo terminato la stagione di semina primaverile della colza E questa è un'ottima cosa Non so se dobbiamo però Penso fertilizzare Sì c'era là sul 42 C'è da fertilizzare Allora vado a prendere Ah già che c'era il New Holland che l'avevo lasciato fermo sul 42 Eccolo qua Boh nel frattempo allora che scarica lì Io mi metto un attimino qua a fertilizzare Così almeno ci portiamo avanti E vado a fertilizzare anche il 2 Così almeno siamo già a posto Allora vediamo Controllami intanto tu il prezzo eh Vediamo un po' quanto riusciamo Sì però lo sapremo alla fine Sì esatto esatto Vediamo quanto riusciamo a farci nel frattempo 6.000 euro da 14.000 litri Non male Non male devo dire E mica sceso il prezzo Ah è sempre stabile Ok perfetto L'importante è quello 4.55 Perfetto Ok se vuoi Ok raga Terminato la fertilizzazione nel campo 42 Adesso vado Al campo 2 Così seminiamo anche il campo 2 Così almeno con la fertilizzazione siamo a posto per il momento E poi ci dedichiamo finalmente Alla vendita dell'insilato Le ultime giusto vendite che dobbiamo fare E poi acquistiamo finalmente i maiali E trebbiamo anche i campi autunnali Nel frattempo altri 6.383 euro Dalla terza vendita dell'insilato Siamo già a 43.000 euro Con questi soldini Ovviamente questi soldini li investiremo Nei maiali raga Niente di più niente di meno Ok raga Altri 6.383 euro Dalla quarta vendita dell'insilato E nel frattempo abbiamo finito anche di fertilizzare Sperando che ci basta tutto Il fertilizzante Ma mi pare di sì Abbiamo finito di fertilizzare Il nostro bel campo Ok giusto giusto ci è bastato Bene Ci dirigiamo in farm Così finiamo di vendere l'insilato aiutando ste E poi finalmente possiamo fare il resto Vorrei vendere un po' l'orzo Ma l'orzo ancora mi sembra un pochettino basso Beh mica tanto però 803 secondo te com'è l'ho 8.89 L'orzo Siamo lì Com'è segnato È in decrescita Però essendo che i prezzi ora sono tutti fermi Volendo Non è una cattiva idea anche vendere l'orzo Devo tenerlo sotto occhio sto orzo Vedete se sale più di 8.89 Perché abbiamo un bel po' di orzo raga Dall'ultima raccolta che abbiamo fatto ovviamente Ne è uscito parecchio E devo tenerlo assolutamente d'occhio Capire un pochettino come si comporta Va bene Va bene nel frattempo che tu finisci Tanto dovresti avere l'ultima raccolta diciamo Dell'insilato mi pare In teoria sì E io a questo punto mi vado a prendere Abbiamo solamente Questo qua non l'avevamo preso No l'avevamo preso in affitto probabilmente gli oskin Noleggia Sì ok E ci andiamo ovviamente a prendere i maiali raga Partiamo con i maiali Mi prendo il fiat agri che tanto va più che bene Vado a prendere il cassone E vado ovviamente al consorzio lì di bestiame laggiù in fondo Così sfruttiamo questo saldo attuale per finanziare l'allevamento degli animali ovviamente Adesso andiamo in retro per di qua Senza che magari si bagga Allora raga E' un investimento un po' gravoso Devo dire la verità Però Lo voglio fare Partiamo da 9 suini per il momento 30.000 euro Sono un po' tantini Sì ma E' un investimento che potrebbe tornarci Comunque del ricavato sicuramente Sia dalla vendita dei suini che poi verranno riprodotti Sempre che si riproducano Che non facciano come le mucche E o comunque vabbè Perlomeno liquami e concime Ce ne avremo in abbondanza E non lo dovremo più comprare Vai dimmi E e Fermo fermo Io non so Ma quanto costa un suino? 3.360 euro Ecco Adesso vai sull'economia della season Sotto la voce suino Sotto la voce suino Oh cielo Ecco Quello che volevo farti notare Ma io questa cosa dei suini Che ci sono prezzi minori e maggiori Non la conoscevo Ma allora a questo punto Lo andiamo a comprare il quinto giorno di autunno E allora basta raga Non compriamo i suini E mo non ho leggetto il cassone Accidenti A meno che non vuoi prenderli No Eh si certo Lo vado a pagare più del doppio Non ne vale Non ne vale Perché poi andiamo Perché poi Non hai un range elevato per venderli Poi non è che Eh esatto Non è che poi non ci guadagni più nulla Oh lasciamo il cassone qua Me ne torno indietro con il trattore Appena riusciamo a mandare avanti raga Fino al quinto giorno di autunno Quindi penso a questo punto Li compreremo nella prossima puntata E li andremo a trattare nella prossima puntata Va bene Suini rimandati per il momento Lasciamo in stallo i suini E occupiamoci della trebbiatura A questo punto autunnale Ok dai Ok sono a posti Sono a posto Sono al primo stadio di maturazione adesso Ok Perfetto A me devo aggiornarsi Eh si sicuro Però aspetta ti devo mandare leggermente ancora avanti Perché ci sono C'è il terreno bagnato Se no non Ok a posto Anche il 41 è pronto Oh cavolo si sono maturati tutti Voglio dire Facciamo la semina totale in autunno E via Ok ricominciamo dal 23 Eh si riparte con la trebbiatura Si riparte e No non ci credo Sai che non mi aspettavo tutta sta trebbiatura così di botto Non ho proprio pensato sinceramente Che avendo seminato in In primavera Se mandavo a estate Dovevamo non lo trebbiare Piccolo errore Vabbè a questo punto facciamo un'altra cosa Raga perché sono talmente tanti i campi E talmente Lenta la trebbia Che Mi vado a noleggiare un'altra trebbia A sto punto Dai facciamo un mega Una mega trebbiatura E via Ok sai cosa faccio? Mi prendo la Massi Ferguson Questa qui vecchia Massi Ferguson 27 Che di base costa 55.000 euro Ma a noleggio costa 4.840 euro E ha una barra di 6 metri Che non è male comunque Non è male La trebbia è anche abbastanza grossina Ha la capacità quindi Dovrebbe andare abbastanza bene Mi prendo la lama 616 euro me la noleggio ovviamente Eccola qua E ci usiamo sta trebbietta Per aiutare ste a trebbiare Tutti i campi che dobbiamo trebbiare raga Mega trebbiatura oggi Dei campi autunnali E dei campi primaverili Quindi abbiamo fatto praticamente Un reset totale dei campi E dalla prossima semina Possiamo seminare A parte che Nella prossima puntata Seminiamo una cosa un po' diversa Che non seminiamo Spesso Anzi seminiamo quasi mai Quindi preparati Ste perché In confronto alla trebbia Ti sembrerà Speedy Gonzales E non dico altro Ok Scopriremo Stada Per il prossimo gameplay Allora Esatto Ok Io sono pronto Per scaricare Non so però Come posso Allora Fai una cosa Guarda Ti lascio la trebbia Che è qua in strada Ecco qua E intanto ti usi quella Io intanto vado a scaricare Col New Holland Prendo il cassone E vado a scaricare La trebbia piccoletta Ok raga Partiamo con Finalmente La trebbiatura Dei campi autunnali Ole Si parte Purtroppo non abbiamo Molto tempo Quindi iniziamo solamente Poi ovviamente Continuiamo Nei prossimi episodi Però giusto da Almeno fare I bordi Così almeno Siamo già tranquilli Così almeno poi Se dobbiamo mettere Magari gli operai E cose Siamo già Tranquilli Diciamo Tu a quanto vai? Sembra sei? Sei sette? No va a dieci Questo Ah ecco Vabbè nel frattempo Io inizio a mettere L'operaio Perché siamo arrivati A un'ora di video E lo sai Come sono fatto Non vorrei proprio Esagerare Quindi vengo a portarti Il cassone Così se devi scaricare Scarichi Ok ottimo E almeno ci salutiamo Da lì Perfetto raga Dai nel frattempo Che qua scarichiamo Tu vai pure avanti Nel frattempo Così continuiamo a scaricare Ok Io vi ricordo Che in descrizione Potete trovare I miei link utili Compreso il link Delle donazioni Se volete fare Un piccolo supporto Al canale Ovviamente compreso Anche il link Per comprare questo Ma anche tanti altri Giochi scontati E ovviamente compreso Anche il link Diretto per il canale Di stemmi Mi raccomando Andatevi ad iscrivere Adesso Prego Figurati Basta Hai finito? Sì Non c'è più nulla? Ok Va bene Per il momento È tutto raga Io te Ti ringrazio nuovamente Mando un grosso saluto A te E figurati Mando un grosso saluto A te Ai nostri iscritti E ovviamente Ci vediamo al prossimo video Ciao raga Ciao 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 ciao